In previsione della giornata regionale in memoria delle vittime delle miniere, ovvero il 12 novembre, un omaggio ai carusi di Gesso Lungo che morirono nel 1881 sarà realizzato con un programma di appuntamenti curati dall'assessorato alla cultura e dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri, frutto di sinergie del territorio che vanno dalle associazioni alla diocesi e al comune. La motivazione da rintracciare nella grande volontà che si è avuta in città tra varie associazioni, particolar modo la mia, l'associazione Piccoli Gruppi Sacri, l'amministrazione comunale ma anche la diocesi, cioè quella di dare continuità a quanto è successo lo scorso anno. Lo scorso anno c'è stata una proposta presente della regione all'epoca musulmane di istituire una giornata della memoria per i caduti in miniera e questa data è stata identificata proprio nel 12 novembre che è la data 12 novembre 1881 quando ci fu l'esplosione a Gesso Lungo e morirono la città ebbe tante perdite e compresi tanti carusi. Lo scorso anno è stata istituita questa giornata, sono stati fatti degli eventi e per cui a distanza di un anno questo serbatoio è stato riempito con degli eventi, alcuni dell'amministrazione, alcuni dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri, alcuni della Cuglia. All'evento in cattedrale si rappresenterà a Pinuccio che è la storia di un bambino di miniera, alle mie spalle abbiamo una delle varie volute da minatori di Gesso Lungo che diedero l'incipit alla settimana santa e in particolar modo volevo invitare anche i nisseni giorno 12 dove ci sarà una messa, chiamiamola ufficiale, di memoria, forse appunto la memoria di Gesso Lungo. Proprio l'11 novembre ci sarà alle 9.30 a Palazzo Moncada il convegno sulla tutela della valorizzazione e la fruizione del patrimonio minerario culturale siciliano, alle 16 nella Chiesa San Giovanni una giornata di studio a cura dell'ufficio diocesano Cultura e Comunicazioni Sociali della Chiesa Nissena nel mondo della Solfatara. All'evento in cattedrale lo spettacolo Pinuccio con Aldo Rape e le musiche dal vivo di Zaffara. Infine il 13 novembre al Margherita Don Gesualdo con la regia di Lorenzo Muscoso, le musiche di Riccardo Gerbino e l'interpretazione di Alessandro Asparacino.